La polizia! Gomba! Daisy! La pietra! La torre! Il fungone! Salta! Ok! Fermerà questo alla torre di Koopa. Che cosa fai? Lo spiritoso? Luigi, questa è la fine. È inutile farsi illusioni. Siamo in un mare di immondizia. Anche se siamo nell'immondizia, Mario, sto avendo un presentimento. Sai presto dove saremo? Sì, in un mare di merda!